E' la grammatica del segno quella che Giovanni Larosa mette in mostra Villa Mirabello a 40 anni dalla sua prima volta e a 50 dall'inizio di un percorso che lo ha portato a dare personalità artistica alla lettera, al simbolo, alla natura del linguaggio. Uno studio infaticabile che fino alla fine di luglio guiderà i visitatori alle origini di quella comunicazione che impasta la nostra quotidianità e che affonda le radici nella notte dei tempi tra lettere in evoluzione, superfici levigate, cromatismi accennati. Praticamente la tela deve essere prima resa possibilmente il più riccio possibile e c'è un fondino che ho scoperto mettendo dei colori che usano nella ceramica. Come si può vedere ci sono delle piccole variazioni cromatiche che sono come un suggerimento di colore, il colore non si impone ma si impone il segno. Un'esposizione che, pennino alla mano, racconta in modo inedito l'altra faccia dell'interazione nella forma che si fa sostanza e che cambia continuamente da ogni punto di vista. La cosa curiosa è che oggi mi trovano nella impossibilità di trovare i pennini perché non ne fanno più. Meno male che ne avevo contati tanti prima.